Giorgio Posso, l'Unione Industriale di Savona, si è svolto il seminario dedicato al Lean Management. Cosa si è parlato nel corso di questo incontro? L'incontro è stato molto interessante perché abbiamo presentato il Lean Management che appunto è una forma di innovazione organizzativa e gestionale che viene affiancata all'interno del programma di piccola industria e compi-industria all'innovazione tecnologica, in quanto le due forme di innovazione sono altamente sinergiche. Infatti l'innovazione organizzativa e gestionale offre un ambiente sociale e metodologico adatto a declinare le strategie e le tecnologie dell'impresa in un modo efficace e senza sprechi. E quindi in concreto un'azienda applicando questo metodo può risparmiare? Applicando questo metodo l'azienda ha molti vantaggi, riesce ad avere un maggior coinvolgimento delle persone che lavorano nell'impresa e riesce a migliorare continuamente attraverso gli anni avendo dei vantaggi più diversi, risparmiando ad esempio capitale circolante che è immobilizzato nei magazzini, risparmiando capitale fisso attraverso un aumento della capacità produttiva liberata e quindi ha nuove possibilità di investire in tecnologie all'interno di un contesto che porta a un miglioramento continuo delle proprie performance.